Ci sono sul pianeta Terra circa 2 miliardi di esseri umani che non hanno l'accesso garantito e sicuro all'acqua. Cosa vuol dire? Che alcuni rischiano di morire di sete proprio per l'assenza dell'acqua, ma anche quando l'acqua c'è spesso è sporca, inquinata, pericolosa per la salute di queste persone. E allora pensiamoci quando lasciamo aperti i rubinetti, quando sprechiamo l'acqua durante una doccia, quando ci laviamo i denti o quando facciamo i piatti. Sembrano gesti piccoli, ma se li pensate moltiplicati per milioni e milioni di volte, milioni e milioni di persone, danno un contributo fondamentale a risparmiare l'acqua e anche, tra l'altro, a dare un segnale generale. Non inquiniamola, visto che ce n'è poca, perché un'acqua inquinata fa male agli esseri umani, ma fa male anche all'ambiente e agli animali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.